Alla sera tardi, quando il giorno si è inabbissato dietro di noi, mi capita spesso di camminare di buon passo lungo il filo esaminato. E allora dal mio cuore si inalza sempre una voce che dice che la vita è una cosa stupenda e grande. Che più tardi, dobbiamo costruire un mondo completamente nuovo. Ad ogni crimine o orore dovremmo opporre un nuovo pezzetto di amore che avremo conquistati di noi stessi. Possiamo soffrire, ma non dobbiamo soccombere. E se sopravviveremo infatti a questo tempo, corpo e anima senza amorezza. Allora, avremo anche il diritto di dire che la guerra è finita.